C'è Quanta mozionella messa Ciao ragazzi e ciao ragazzi benvenuti in questo nuovo video Siamo venuti in questo video Noi praticamente abbiamo registrato Ma è successo un casino Ha ritardo la voce Spero che questo video faccia Se lo state vedendo vuol dire che almeno questo sarà da un buon fine Il mio telefono sta scasciando Noi mangiamo come dei porci Questa è la miera Praticamente sono dei panzerotti giganti Sono uguali, non vi sticciamo Praticamente sono dei panzerotti Sono dei panzerotti giganti Con Wustel e mozzarella Sono buoni Buonissimo Iscrivertili, condividete Mettete un like Che buoni Se sentite i music random sono i vicini Ma che no C'è un cane che abbaglia ogni giorno Che buoni Che buoni Che buoni Che buoni Buonissimo Ma la vero Ma non vuole sto video Allora volevo salutare Una amichetta di Lalia Ciao Vanessa Essendo che mi ha contattato prima Dicendomi perché non stai più facendo storie Ho detto guarda Sono tipo un'ora che non le faccio più Va di quello rifatta E niente Mi ha fatto i complimenti Ma ha detto che sono bravissima Video vi piacciono Bla 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 E io contentissima Quindi Ti mando un bacio Anche se ci vedremo in giro Perché abiti nel nostro Su paese nostro Se è amichetta sua Quindi Quindi Sto Un po' con l'acqua Spero bevamente Che non tardi questo video Spero di una cosa Quando eravamo al mare C'era una penetta Stena Davvero Ma che C'è un bacio E io Il bacio mi chiede Se vuole il caffè Il caffè il nostro è uguale Non è tipo uguale Non è uguale ma è diverso Chi sta? No Sto facendo con la moca adesso Con la macchinetta normale Dopo devo andare a casa sua Perciò il babbo che deve fare La capi rosca E' un Io sono un pileno Io no Patate No sono buone Forse non c'ho più patate Che mangia non ce la faccio più Io sto studendo come un 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 po' C'è Quanta mozzarella messa Il macchin gomma Poi noi Scusate Noi sabato Andiamo a andare In un ristorante Con lei Fede Sara Mozzarella Eh Nonna Andiamo a mangiare Adesso che ho lanciato Daniela è che Le aveva Uno Che è uno E che è Un pezzo di Coso Tutta mozzarella Ma la mia tela Ma è Guardate che No Ma è Braviglia Non so Sarebbe Ci sa Ma noi Siamo una famiglia Molto strana Diciamo che è stato Un mukbang Abbastanza breve Il fratello Che è Ulla Sensuale La sorella Che dice Sensuale C'è caldo Ok Allora Questo era Quanto Noi siamo Paffati Io ho lasciato Poca piccolina E si è Spattolata Tutto Quindi Noi Vi salutiamo Un bacione Io e Laria Vi salutiamo Iscrivetevi Al mio canale Condividete Attivate la campanellina Così Tutti i nuovi video Che carico Vi arriva la notifica Sul telefono Seguitemi su Instagram E vi lascio Lo mettete Non mi piace Sennò Vengo da voi E mi picchia Vi pedina Come si dice Vi picchia Attenzione Comunque A parte gli scherzi Eeeh A parte gli scherzi Speriamo di avervi tenuto compagnia Era un mukbang un po' così E quindi niente Io Ciccina Bellissima Vi salutiamo Ciao 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 Grazie a tutti